Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi ho pensato di parlarvi di 10 prodotti costosi, luxury, prodotti che pesano un po' sulle nostre tasche, ma che se decidiamo di acquistare, di investire i nostri soldi in questi prodotti, non saremmo e non rimarremmo delusi, almeno secondo la mia modestissima opinione, perché sono prodotti che trovo assolutamente belli, performanti. Inizio, spero come sempre che il video vi possa piacere, nel caso non dimenticate di lasciarmi un like, un commento, di iscrivervi al canale e di venirmi a trovare anche su Instagram. Siamo subito con un prodotto per la base, con un fondotinta, un fondotinta che secondo me davvero vale la spesa e non è che ce ne siano poi così tanti, secondo me che valgano veramente l'acquisto a dei prezzi importanti, perché trovo che ci siano anche di fondotinta di fasce di prezzo low cost o comunque medium cost veramente molto validi, ma lui è sicuramente uno di quelli che vale il suo prezzo e sto parlando del fondotinta di Chanel della linea Le Beige, l'Elfie Glow Foundation. Qui siamo sui 50€ mi sembra a prezzo pieno, poi aspettate sempre sconti quando volete acquistare prodotti così costosi, almeno io faccio così, adesso è uscito anche il nuovo fondotinta di Chanel, ovviamente ne sono stata tratta, però dico la verità 70€ per un fondotinta mi è sembrato veramente troppo, soprattutto senza avere la possibilità di provarlo prima, anche con gli sconti, sinceramente ho lasciato perdere perché chissà, magari prima o poi riuscirò a provarlo in un campioncino, speriamo che magari arrivi in negozio, perché ancora non c'è in negozio questo fondotinta, così da farmi fare un pottino, insomma, un fondotinta così costoso, secondo me uno dovrebbe avere veramente la possibilità di poterlo provare prima, anche perché veramente ho scoperto tanti fondotinta a dei prezzi veramente ottimi che mi piacciono tanto, quindi ho valutato che non me la sento, sinceramente, di investire così tanto per un fondotinta, anche perché ho sentito anche in questo caso parere un po' contrastanti. Comunque, in ogni caso, lui secondo me vale veramente il suo prezzo, poi preso con uno sconto ancora meglio, ce l'ho nella tonalità B10, è un bellissimo fondotinta perché dona una media coprenza, stratificando un po', comunque è una coprenza leggera ma che si riesce a stratificare un attimo, ha una texture sottile e radiosa luminosa, che non è assolutamente lucida perché sapete che è troppo lucido, eccessivamente luminoso il fondotinta non mi piace perché poi va a evidenzare anche troppo la grama della pelle, poi in certi periodi dell'anno tendo ad avere anche la pelle che si lucida un pochino nella zona T, è eccessivamente luminoso, l'effetto proprio lampadina non mi piace, mi piace proprio la radiosità e questo fondo è così, è molto radioso, non è un luminoso come quello di Charlotte Tilbury per intenderci, quindi dona questo aspetto proprio bello, sano e radioso alla pelle, rimanendo sottile, non mi segna assolutamente durante il corso della giornata, non mi evidenza la mia ruga di espressione sulla fronte, le naso labiali, è proprio bello, mi uniforma rimanendo molto naturale, sapete che è proprio il genere di prodotto che piace a me, una base molto molto naturale, questo è uno di quei fondotinta che terminato riacquisterai assolutamente perché per me è veramente bellissimo, uno dei migliori di sempre e secondo me si adatta benissimo sia per una pelle più secca fino a una pelle mista, eviterei solo su una pelle molto grassa, invece per tutti gli altri tipi di pelle con i vari aggiustamenti secondo me si può adattare benissimo, idratando bene se è una pelle molto secca, per una pelle normale secca e normale mista, funziona perfettamente perché è un po' la mia tipologia di pelle, per una pelle più mista basta settarlo un po' di più con la cipra per evitare di lucidarsi un pochino durante il corso delle ore, ma reggia anche molto bene, insomma è veramente un gioiellino questo fondotinta. Il secondo prodotto che dovevo farvi entrare in questo video è assolutamente la cipria di By Terry, la cipria non è un prodotto che tutti amano in ugual modo, non è forse il prodotto che spinge di più le persone a spenderci dei soldi, magari uno preferisce spenderli più nel fondotinta, su una palette occhi, su un bronzer, magari non su una cipria ma lei ne vale veramente la pena perché è una cipria da un trito talmente sottile che la rende veramente unica e favolosa. Si vede proprio anche visivamente quanto è bella questa cipria ma anche al tatto è veramente setosa, sottilissima, non crea minimamente quell'effetto polveroso secco e asciutto tipico delle ciprie, per cui questo è un vero gioiellino e che vi consiglio assolutamente di provare soprattutto se avete una pelle secca, non amate solitamente la cipria, avete anche una pelle non più giovanissima perché è estremamente favolosa. Terzo prodotto Luxury, secondo me che vale la pena acquistare, su cui vale la pena investire i propri soldi se vogliamo toglierci lo sfizio di acquistare un prodotto Luxury, perché comunque non è necessario secondo me avere questi prodotti, se riesce a realizzare dei bei trucchi, delle belle basi, qualsiasi cosa, anche con dei prodotti più economici perché ce ne sono di, ripeto, di economici performanti, però se si vuole acquistare un prodotto un po' più costoso, questo bronzer di Chanel secondo me è un altro vero gioiellino, si tratta del Le Beige Alfie Glow Bronzing Cream, nella tonalità 390 Soleil Tan, vi ho già parlato di questo bronzer, è un classico, un'icona del make-up, Luxury, utilizzato ormai da tempo e insomma è così famoso perché si merita la fama che ha, è un bronzer assolutamente meraviglioso, è un bronzer in crema di una facilità di stesura e di fondenza con la pelle incredibile, è di una facilità proprio estrema da applicare, cosa che mi piace molto, la tonalità è vero, sembra un po' aranciatina, vi assicuro, o almeno sul mio incarnato questa componente arancione si perde poi completamente, mi lascia proprio solo questo bell'effetto un po' scaldato, tra l'altro ha anche un colore molto gestibile, non è pigmentatissimo da subito, per dirvi non è pigmentato come quello di Uda Beauty, è comunque un prodotto in crema che io amo alla follia, questo appunto come tonalità si riesce a modulare ancora meglio, è bellissimo, trovo che dia proprio questo aspetto sano, bello alla pelle, un bel colorito effetto proprio, non so, baciata dal sole, bellissimo, è proprio bellissimo, è proprio un bronzer che dona questo aspetto di salute che è favoloso, ovviamente essendo un prodotto in crema anche qui indicato perfettamente anche per le pelli secche, per le pelli mature, è meraviglioso. Il quarto prodotto Luxury, che secondo me vale tutti i nostri soldini, sono le palette viso di By Terry, io ho questa, non ho preso l'altra versione, un po' più scura perché mi piacevano meno le tonalità, soprattutto quella del bronzer che ho visto che era molto rossiccia, sono le Brightening Sissy Palette, io ho la versione 1, Sunny Flash, la prima uscita, mi ha fatto però letteralmente, letteralmente innamorare delle polveri viso di By Terry, tanto è favolosa la cipria, vi dico tanto sono favolose queste polveri viso, poi ultimamente sapete che con quel bag mega super fantastico su Look Fantastic sono riuscita a prendere il Sissy Serum finalmente, così lo proverò quest'estate, pagato 2,50€ e sono molto felice perché trovo che comunque By Terry abbia dei prodotti veramente favolosi. Una volta che riprendo questa palette io me ne rinnamoro, guardate che cosa magnifica che ha questa palette, tra l'altro queste sono tonalità assolutamente perfette per una carnagione chiara come la mia, il bronzer è una bellissima tonalità, i due blush ho questo rosa un po' più chiaro, questo rosa corello più acceso ma assolutamente gestibile come tonalità, è proprio bellissima questa cipria, sulla zona del contornocchio una cipria luminosa, giallina, che è favolosa, sono anche qui esattamente come la cipria, delle polveri setosissime, sottilissime, quindi sempre particolarmente indicate anche per pelli secche, per pelli mature e come dico sempre, secondo me ciò che va bene per una pelle secca e per una pelle matura funziona perfettamente poi su ogni tipologia di pelle perché vuol dire che il prodotto è estremamente performante, quindi amo le tonalità, amo queste polveri, mi danno un effetto proprio radioso sul viso bellissimo, mi direte ma queste polveri contengono dei brillantini? È vero, hanno questa micro perla brillantinata ma è una cosa talmente sottile, talmente impercettibile che anche una persona come me che non ama assolutamente i glitter non riesce a non amare ed apprezzare al 100% queste polveri, un po' come le polveri luminose di Nars, è vero hanno questa micro perla sbrilluccicosa ma è una cosa talmente sottile, hanno un trito, queste polveri talmente leggero che donano solamente un aspetto meraviglioso e non è sicuramente il brillantino o il glitter che ci si può immaginare, sono favolose, questa palette viso io non me la sarei mai aspettata, l'ho acquistata un bel po' dopo che era uscita, me ne sono letteralmente innamorata, ve la consiglio al 300%. Stando sempre in tema polveri viso, parlando di polveri singole, ho pensato a un blush e a un illuminante costoso che valesse veramente la pena, per l'illuminante la cosa è stata molto molto più semplice, per il blush più difficile perché sapete che amo follemente blush, è il prodotto makeup che amo di più, che forse al momento, al giorno d'oggi, rispetto magari a un tempo in cui puntavo più sulle palette occhi, ora più in quantità i blush, non smetterei mai di acquistare blush e ce ne sono tanti belli, anche di luxury, quindi è stata molto difficile, però ho proprio pensato se dovessi consigliare a una persona magari che sta iniziando ad entrare nel mondo del makeup e volesse acquistare proprio un solo blush costoso, non potrei dirgli di non provare un blush di Pat McGrath, questi blush sono la fine del mondo, sono un'esperienza davvero unica e sono da provare, sono stata combattuta perché amo follemente il blush che ho di Chanel, il blush di Dior, il blush di Dolce Gabbana, anche quello è un gioiello secondo me veramente favoloso, però probabilmente indicherei come primo blush da provare costoso questi di Pat McGrath, i Divine Blush, con questa bellissima scatolina lilla, io ho singolo questo colore che è Love Struck, che è il colore che mi ha proprio conquistata follemente da subito, poi sapete che ultimamente ho preso anche la palette viso, quella in collaborazione con Bridgerton che contiene altri due blush, questo è un bellissimo rosa acceso, è stupendo, è veramente un colore favoloso, ma potete trovare il colore che più vi si addice, che più preferite, perché appunto ci sono diverse tonalità, la cialda è poi un capolavoro, tutto il pack elegantissimo, elegantissimo ricorda le Mothership, ma anche queste polveri sono veramente uniche, veramente eccezionali, sono polveri sottilissime, che anche qui hanno un livello di fondenza con la pelle che li fa sembrare quasi dei prodotti in crema, tanto non si percepisce la polverosità sul viso, il colore, tra l'altro vedete che anche un colore così acceso è molto modulabile, molto costruibile l'intensità, non sono iperpigmentati, quindi vanno benissimo anche per chi ha le prime armi, sono assolutamente favolosi, io amo follemente la texture di questi blush, questo colore ce l'ho proprio nel cuore, quindi sì, sicuramente consiglierei un blush di Pat McGrath. Per quanto riguarda l'illuminante, la scelta è stata sicuramente più facile, perché ho molti meno illuminanti che mi piacciono rispetto ai blush, ho anche meno illuminanti, ma sapete che sono molto difficili con l'illuminante perché deve essere della tipologia di polvere, di texture che piace a me, il colore che piace a me, quindi ho qualche chicca sia nei costosi che negli economici che amo follemente, tanti invece non mi piacciono negli economici né dei costosi. Però tra queste poche chicche ce ne sono tre che per me si equivalgono, quindi io questi tre illuminanti costosi ve li consiglierei esattamente allo stesso modo, anche se di questi uno in realtà poi si trova ad un prezzo decisamente più abbordabile rispetto agli altri due. diciamo che la New Entry, il prodotto che adesso come adesso vi consiglierei anche di acquistare come illuminante che trovate ad un buon prezzo perché questo penso che in sconto l'avevo pagato 22 euro, forse aumentato di qualcosa, comunque lo trovate tra i 20 e i 30 euro mi sembra, o su notino o su look fantastic, è questo illuminante di Clinique, il powder pop nella tonalità lunar pop che è un'edizione limitata ma fortunatamente si trova ancora e finché c'è, se non ce l'avete correte ad acquistarlo, io so che in diversi di voi l'avete acquistato e vi piace da impazzire perché è favoloso questo illuminante, peccato che il pack non sia assolutamente a livello di un prodotto luxury perché è plasticoso, la chalda invece è molto bella, ma la texture lo rende uno degli illuminanti più belli e secondo me che esistano, infatti è entrato subito nella top free insieme agli altri due illuminanti che adesso vi mostro qui, baro un po', però per me veramente questi tre illuminanti sono estremamente validi e performanti allo stesso modo, lui è bellissimo, è questa bellissima tonalità champagne con una punta di dorato veramente chiarissima, quindi va bene per carnagioni anche chiare, può sembrare magari leggermente più scuro in cialda invece un bellissimo colore ed è proprio il classico illuminante da una texture sottile, fondente con la pelle, effetto specchiato, perfetto anche per la quotidianità perché magari non tutti si sentono a loro agio con un illuminante molto strong, molto prepotente per tutti i giorni, io ad esempio preferisco un effetto un po' più discreto, mi piace la pelle radiosa, specchiata, però ad esempio non mi piace proprio il glitter dell'illuminante o anche che sia troppo troppo luminoso, ecco. Se cercate degli illuminanti di quel tipo sicuramente non vi posso dare un buon consiglio perché non sono tipologie di illuminanti che utilizzo, ma se come me invece amate questo genere di illuminanti, lui è favoloso e se lo trovate ancora, compratelo. E gli altri due di questi ve ne ho già parlato, però ve li menziono perché quella è la new entry, ma loro da sempre, da quando li ho acquistati ormai sono diventati i miei illuminanti preferiti, I Need a Nude Glow di Natasha Denona, anche qui illuminante, uno champagne dorato di una bellezza stratosferica, penso che la bellezza di questa polvere si capisca già dalla cialda, perché anche qui parliamo di un illuminante da un tritto sottilissimo che si fonde con la pelle, dona questa bella luminosità specchiata, non prepotentissima, lo vedete esattamente come il Clinique, ma è favoloso. Considerate comunque che questi illuminanti, se volete quella volta avere un effetto un po' più strong dell'illuminante, li potete combinare anche con un illuminante liquido, andate sopra con questi in polvere, avete un effetto pazzesco. E l'altro meraviglioso, che ha anche una tonalità differente da queste due, che sono dei champagne dorati chiari, è questo di Charlotte Tilbury, non so se si trovi ancora, infatti ve ne parlo, ma non so se c'è l'Hollywood Superstar Glow Highlighter, perché era uscito sempre per la collezione natalizia di due anni fa, prima la palette argento, ma è uno degli illuminanti più belli anche qui, che siano mai usciti. E qui invece siamo su una tonalità a base più rosata, è bellissimo. Anche questo illuminante è qualcosa di estremamente eccezionale, esattamente per lo stesso motivo degli altri illuminanti, quindi per me questi sono veramente tre gioielli su cui vale la pena spendere e investire in un prodotto come un illuminante costoso. Passiamo adesso al reparto occhi, alle palette occhi, perché penso che se qualcuno vuole avvicinarsi al mondo del makeup luxury, voglio magari provare anche una palette occhi. Inizio con una palette viso e occhi, che secondo me è un vero gioiello, è un vero capolavoro, un prodotto che non volevo neanche acquistare inizialmente, e invece si è rivelato uno dei miei prodotti in assoluto preferiti di questo brand, che mi piace molto. Amo molto, ma con cui ho un rapporto a volte un po' conflittuale, perché trovo che abbia dei gioielli in gamma assurdi, tra le palettes secondo me più belle del makeup di sempre e altre cose invece che non mi hanno assolutamente conquistata. Sto parlando di Natasha Denona e questa è la Glam Face Palette. Questa palette che tra l'altro ha un packaging che è la fine del mondo, secondo me è di un'eleganza, è di una bellezza estrema, tutto specchiato, si sporca tutto, però è bellissimo. E questa è la palette, io ho la versione light, c'è anche la versione più scura, qui dipende solamente dai gusti, perché da quello che ho capito la formula è esattamente identica. Abbiamo un blush in crema che è di una bellezza che non vi sto qui neanche a raccontare, l'abbiamo anche provata insieme, i blush in crema di Natasha Denona mi piacciono sempre moltissimo e anche una bellissima tonalità, perché è questo colore che rimane quasi un colore, un nude a terracotta, ma non troppo caldo, né troppo freddo, non troppo intenso, non troppo chiaro, è perfetto, è bellissimo, vi dà un effetto salute meraviglioso, i blush in crema di Natasha Denona sono bellissimi, si fondano proprio con la pelle. Questo è illuminante, su cui avevo dei timori assurdi, perché contiene dei glitterini, in questo caso all'interno, ma questa è una pura magia che ha realizzato Natasha Denona, perché pur avendo questa formula che tipicamente non è nelle mie corde, questo illuminante è assolutamente pazzesco, perché riesce ad avere un livello di fondenza con la pelle comunque enorme, è bello luminoso, questo vi dà veramente una luminosità molto intensa, ma non fa assolutamente quell'effetto striscia, non va a texturizzare, questi glitterini comunque non sono così prepotenti da risultare troppo, è favoloso questo illuminante, credetemi anche se non amate i glitter, e poi abbiamo la parte viso, e qui abbiamo queste tonalità nude, nude, rosate e marroncine, tra l'altro i marroncini non sono neanche le mie tonalità preferite, perché preferisco assolutamente di più nude rosati, lo sapete, ma questa palette è stupenda, i matt della Denona sono una garanzia assoluta, e qui abbiamo anche qui questi shimmer glitterini che ha proposto così solo in questa palette, e sono una colata di luce favolosa, che rende questa palette assolutamente diversa dalle altre che ha in gamma, e guardate che belli, veramente stupendi, con questo potete fare un look da sera, da giorno, ed è bellissimo in ogni caso, perché vi dà questa luminosità pazzesca, ma che rimane comunque molto elegante, perché abbiamo appunto queste tonalità che non sono assolutamente eccessive, ma molto portabili e sfruttabili per tutti i giorni. Questa per me è veramente un gioiello di Natasha Denona, non la volevo prendere perché appunto io non amo solitamente molto le palette nude marroncine, invece lei si è rivelata qualcosa di assolutamente incredibile, che secondo me bisogna provare tra i prodotti più costosi. Passando invece in questo caso ad un altro brand che è appunto Pat McGrath, ottavo prodotto Luxury, che vi consiglierei di acquistare, è un suo quad. In generale io tendenzialmente vi direi che i quad sono il genere di palette di Pat McGrath che preferisco di più, perché ho provato l'esperienza delle mothership, ne ho una sola, l'ultima che secondo me è pazzesca. L'ultima veramente vale la pena di essere acquistata, secondo me, anche perché ha le texture speciali più belle che veramente ci siano, rispetto alle due mothership che avevo, la 7 e la 8, le due Divine Rose. Questa è proprio oltre, va oltre. Devo dire che con le altre due mothership io non ho avuto questo amore così assurdo, delle buone palette, a me gli ombretti di Pat McGrath piacciono, li trovo veramente di buona qualità. Però non mi hanno, insomma, sconvolta per quello che costano, alcune cialde addirittura non le trovate neanche particolarmente entusiasmanti, quindi, non so, la mia esperienza con le mothership è un po' così. Per me l'ultima vale proprio la pena. I quad li trovo sì costosi per quattro ombretti, però veramente molto pratici, possiamo provare la formula di Pat McGrath comunque senza spendere i soldi di una mothership, poi Pat fa anche spesso gli sconti e in alcuni casi questi quote hanno anche delle texture favolose e magari abbiamo lo schema colori che più ci interessa con quattro ombretti anche per realizzare un look veloce. Poi io parlo ovviamente da persone che si trucca per la quotidianità, per tutti i giorni, velocità, quindi non è che ho tutto questo tempo di fare chissà che look pazzeschi e i quad mi risultano comodissimi e secondo me uno dei più belli con cui sia mai uscita Pat McGrath è Voyeuristic Vixen Venus in Flors Luxe Quad. So che era sold out, spero che sia tornato o che ritornerà, perché questo quad è stupendo. Tra l'altro anche qui abbiamo tonalità che secondo me possono piacere un po' a tutti, o quasi a tutti, sia chi come me ama le tonalità un po' più fredde e nude rosati, chi ama invece le tonalità magari un po' più calde e nude marroncini. Faccio sempre gli swatch nei punti più belli, comunque vedete che bello questo ombretto, va proprio dal rosa al dorato, quasi come se avesse quasi del giallo verde all'interno a seconda di come lo si guarda, che lo rende veramente favoloso, ma è bellissima anche questa cialda, anche questo shimmer che è un po' più classico, l'opaco, una bellissima tonalità, insomma con un solo opaco e questi shimmer così belli che fanno proprio il look e l'effetto finale poi del trucco che andate a realizzare, non lo so, questo quad secondo me vale veramente il suo prezzo, poi ripeto lo potete acquistare con il 25-30% di sconto che fa di solito ogni tanto Pat McGrath sul sito e vale, vale assolutamente perché vi viene fuori qualcosa di stupendo davvero con poco, potete anche utilizzare un solo ombretto di questi a tutta palpebra e vi assicuro che l'effetto è comunque bellissimo, questo per me è veramente un gioiello di Pat McGrath, uno dei suoi quad in assoluto più belli. Un prodotto Luxury che consiglierei di acquistare, forse no, in questo caso direi che non è per tutti, però se vi piace il genere, se volete provare questa tipologia di prodotto io vi consiglio questa nello specifico se vi piacciono le tonalità, sto parlando di una palette 5 colori di Dior, Dior è il mio brand Luxury classico preferito, di cui ho più prodotti, di cui ho provato più cose, che mi attira sempre di più, trovo che sia anche un brand Luxury comunque abbastanza innovativo, ha creato la linea Dior Backstage, si è tenuto un po' più al passo quei tempi, secondo me ha il fondotinta tra i più belli di sempre, dei prodotti veramente favolosi, le polveri viso, i blush. Le palette occhi non sono il prodotto di Dior che normalmente vi direi di andare ad acquistare, a meno che proprio amiate questo genere di ombretto, parliamo di ombretti molto sicuramente sottili, che non texturizzano, ma questi anche shimmer molto discreti, poco luminosi, questo effetto satinato veramente non nel tipico gusto di oggi, di shimmer più sbrilluccicosi, metallizzati, effetto lama di luce, anche gli opachi si applicano con facilità, ma non sono estremamente pigmentati, sono un po' da costruire, quindi deve piacere quel genere di ombretto che personalmente ho provato, ho anche apprezzato in alcuni casi, ma rapportandolo sempre al brand, non è comunque la tipologia, la qualità di ombretti che io preferisco, sono sincera, ma questa palette 5 colori secondo me è speciale, sto parlando della Birds of a Feeder, anche questa è un'edizione limitata, ma io mi auguro vivamente che si possa trovare ancora e sono stata buona che in questo video non vi ho messo il quota di Charlotte Tilbury i Fire Rose, perché so che quello veramente non c'è speranza di trovarlo almeno per adesso, però sappiate che se fosse in gamma disponibile avrei inserito anche quel code, che è il più bello di sempre di Charlotte Tilbury, invece di Dior, se una persona volesse provare una palettina di Dior, io gli consiglierei vivamente questa, se si trova ancora, dovete amare ovviamente un po' queste tonalità sul verde ottagno, però parliamo appunto di Dior, quindi non di ombretti da un colore assurdo, pigmentatissimo, pienissimo, quindi vi assicuro che sono tonalità che riescono veramente ad essere sfruttate anche su chi magari non utilizza molto i colori, però queste texture secondo me sono veramente a un livello superiore rispetto alle altre palettine di Dior, perché abbiamo questi colori, vedete, che non sono i soliti di Dior, non sono le solite texture, sciapette, se vogliamo, di Dior, ma hanno una luminosità comunque già, secondo me, maggiore rispetto allo stile classico di Dior, più sbrilluccicose, guardate questo colore, non so se potete cogliere, ma è molto sbrilluccicoso, un po' stile quasi Charlotte Tilbury, le tonalità comunque sono veramente bellissime, sono tra le tonalità di verde più belle in assoluto che ci siano, vedete, non è un colore pienissimo, non vi aspettate Huda Beauty, non vi aspettate Pat McGrath, ma per essere Dior, poi considerate che, vabbè, stratificando il colore poi diventerà ancora un po' più pieno, sono veramente delle texture bellissime, guardate stratificando il colore come diventa decisamente più bello, secondo me qui siamo veramente a un livello migliore, superiore rispetto a qualunque ombretto che abbia provato di Dior, guardate anche questo shimmer chiaro che bella luminosità, io e Luca che ci creo con questa palettina, li amo molto e trovo che sia un modo veramente molto sfruttabile, molto portabile di utilizzare le tonalità del verde, dell'ottanio, perché ripeto, magari non tutti si sentono proprio a loro agio con i colori, questa palettina vi permette di dare quel tocco di colore su queste tonalità in maniera molto elegante, ma che allo stesso tempo non è smorta, la trovo veramente un amore questa palettina, ripeto, prendetela sempre per una palette di Dior, non per una palette intesa come magari ci immaginiamo oggi questi ombretti super metallizzati e una festa di glitter o di luce pura, nel mondo Dior questa per me è un gioiello e la consiglierei, io ne sono veramente innamorata ogni volta che l'utilizzo mi piace tantissimo il mio look off. Cludo questo video con il diecimo prodotto Luxury, parlo di un prodotto labbra, anche qui non è stato facilissimo perché sapete che ho diversi rossetti preferiti, i Charlotte Tilbury, io amo i rossetti Charlotte Tilbury, sei nella formula matte che è cremosa, i Power Bullet, i Duda Beauty, però ho anche pensato che i Duda Beauty non la voglio proprio considerare come un brand Luxury, mi piacciono molto anche i rossetti di Pat McGrath, i MAC, ma anche MAC ho pensato magari non è proprio Luxury, però ho ragionato anche qui, come per i blush, pur essendoci così tanti rossetti che ami, se una persona dovesse iniziare da zero con un rossetto Luxury, quale proprio consiglieresti? Io ho pensato che sarebbero quelli di Lisa Eldridge, perché anche in questo caso li trovo dei rossetti da un'esperienza veramente unica, sia proprio anche per come si presentano, che poi per la formula che hanno. Io ne ho quattro al momento di Lisa Eldridge, probabilmente nel tempo amplierò anche la mia gamma di rossetti di Lisa, ma per il momento ho proprio i quattro colori che più mi piacevano e che più desideravo tra quelli presenti in gamma di Lisa Eldridge, questi secondo me sono dei rossetti da provare almeno una volta nella vita, se amate i rossetti opachi, perché sono favolosi, vi mostro ad esempio dai Velvet Ribbon, che è il classico rosso per eccellenza, perché guardate che cosa sono i bullet di questi rossetti, sembrano veramente velluto, un bullet così bello, non ce l'ha nessun altro rossetto, né Pat McGrath, né Charlotte Tilbury, nessuno. Qui ad esempio abbiamo un altro rossetto, scusate, un altro colore che è Velvet Muse, un bellissimo nude e uno degli ultimi colori che ho preso, che tra l'altro è uno dei miei preferiti, è Velvet Blush, questo è stupendo, Velvet Blush, se amate questi colori è berry, è va provare, bellissimo, c'è anche Blush Lightly che deve essere molto carino. Questi rossetti secondo me hanno una delle formule migliori perché sono forse rossetti che combinano meglio confortevolezza con la durata, perché ad esempio Charlotte Tilbury io li trovo ancora più confortevoli nel corso delle ore perché quelli non mi seccano assolutamente le labbra, diciamo che Charlotte Tilbury sono più dei matt satinati, quasi con una punta cremosa, come dico io, all'interno, non è proprio quello opaco, però veramente rimangono molto molto morbidi, a discapito di una durata secondo me inferiore rispetto a questi, ad esempio di Lisa Eldridge, che rimangono comunque confortevoli, ma se ho le labbra già molto secche di mio ho notato che questi un pochino nel corso delle ore tendono a lasciarmi le labbra un pochino più secche, magari evidenzarne qualche pellicino in più, ma hanno una durata veramente pazzesca per essere dei rossetti in bullet, quindi secondo me questi sono il compromesso migliore per avere un rossetto matte confortevole e di lunga durata, in più sono un'esperienza veramente unica, questi sicuramente secondo me valgono la spesa se si vuole investire in uno di questi prodotti, fatemi sapere magari quali sono i vostri prodotti luxuri che secondo me valgono ogni centesimo di quello che costano, io spero di rivedervi prestissimo in un prossimo video, vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao! Ciao!